Prosegue la mobilitazione dei marittimi di Torre del Greco che questa mattina si sono ritrovati a Piazza Santa Croce per rivendicare i loro diritti. Dopo l'assemblea di lunedì pomeriggio indetta dall'Orsa Marittimi nei locali adiacenti alla chiesa di Portosalvo nel cuore della zona mare, la protesta continua. Dicono no alla decurtazione della cassa marittima e sono pronti anche a bloccare le navi in mancanza di soluzioni adeguate per il comparto. Si vede benissimo che l'identità di malattia è stato mandato a un emendamento dal governo che è sceso al 60%, fino a ieri era al 75%, oggi è al 60% e già a bordo prendiamo paghe misere. Adesso siamo qua per combattere questa problematica e anche la problematica degli amici di Ercoliano che fanno riferimento all'Inpes di Napoli e arrivano, diciamo, devono pagare medicina e tutto il resto, devono mandare avanti alla famiglia, arrivano questi, l'indennità di malattia arriva dopo 5-6 mesi, non so perché i soldi si hanno in mano alle banche e questi soldi non arrivano. Noi marittimi non ci siamo, allora questo Stato della Meloni con tutta l'opposizione, perché canzi capisce l'indo ormai destra e sinistra, noi siamo apolitici e combattiamo per i nostri diritti. Prossimamente costruiremo un'associazione marittimi italiani, dove noi cammineremo in regola e abbiamo anche intenzione, speriamo che questa cosa arriva agli armatori, di fermare le navi. Fermeremo le navi perché il mare siamo nei marittimi, non sono le navi, il mare lo portiamo noi avanti. Qualcuno sostiene che la cassa marittima è un ammortizzatore sociale, non è così, perché loro dovrebbero sapere che ogni marittimo lavora 7 giorni su 7 e fa 90 ore alla settimana, vuol dire che toglie del tempo alla famiglia. Non manca infine un appello alle istituzioni locali per sostenere la loro causa. Vorremmo che qualcuno ascoltasse ai marittimi, perciò noi siamo qui stamattina per farci ascoltare da qualcuno. E anche i cittadini che non sono marittimi, perché qua ci dobbiamo preoccupare che domani l'economia del paese abbà un crollo. Questo che noi cerchiamo. Perciò la mia non è un'intervista, ma un messaggio a tutta la città di 87 mila abitanti, oggi siamo in pochi. Ma noi giorno per giorno aumenteremo sempre di più, batteremo, non perderemo la speranza di manifestare tutti i giorni.